Ciao a tutti, oggi e domani 7 aprile troverete in molte piazze italiane i volontari dell'AIL, l'AIL che è l'associazione italiana contro la leucemia, i linfomi e il mieloma, praticamente sono i tumori che riguardano il sangue. Questa associazione italiana si occupa di questa cosa da tanti anni, tanto è vero che adesso hanno fatto il cinquantesimo e hanno fatto questa campagna del hashtag mai più sogni spezzati, perché la malattia spezza anche il sogno del malato, in quanto ognuno di noi può avere un desiderio, una speranza di diventare qualcosa, di un certo lavoro, di un certo attività, qualcosa e la malattia può dare problema in questo. Quindi loro danno anche questa speranza e fanno in modo che questa gente riesca a raggiungere il loro sogno, perché non dobbiamo spezzare nessun sogno. Come facciamo? Come possiamo aiutare a non spezzare questi sogni e quindi dare speranza e dare aiuto alla ricerca? Dare aiuto alla ricerca, perché i fondi devono esserci i fondi, quindi nel nostro piccolo ognuno di noi può dare una mano. E per esempio in queste giornate, adesso hanno iniziato ieri, poi c'è oggi e poi ci sono domani, 5, 6, 7 aprile, potete prendere un uovo di Pasqua, farete questa donazione, farete questa spesa del comprare l'uovo di Pasqua e farete una grandissima opera buona per aiutare la ricerca, per aiutare i fondi, perché c'è sempre sempre bisogno. Ognuno di noi nel suo piccolo può fare questa piccola cosa, quindi se dovete prendere un uovo di Pasqua, visto che siamo vicini a Pasqua, prendendo questo fate un'azione buona, anche perché è l'aiuto per la ricerca e quindi dai, il mio invito è fare come me, se potete, ma comunque al di là dell'uovo di Pasqua, quando ci sono queste cose e si può dare una mano al nostro piccolo, aiutare le associazioni che fanno del bene, è ok, avete capito. Ciao!